Come era previsto, va in archivio un Ferragosto sold out per Rimini. Il weekend lungo appena trascorso ha fatto registrare un tutto esaurito nelle strutture alberghiere, confermando le buone sensazioni della vigilia. Tanti gli appuntamenti che hanno reso straordinario questo fine settimana, aperto dal grande concerto sulla spiaggia Sunset Corona, unica tappa europea di un evento mondiale itinerante che ha toccato le più belle spiagge di Messico, Cile, Inghilterra, Cina, Dubai, India. Non è mancata la musica al tramonto del Ciringuito, lo street food, i DJ set sulla spiaggia, gli appuntamenti del Cine e Picnic al Ponte di Tiberio e gli eventi privati organizzati da locali, alberghi e stabilimenti balneari da Miramare a Torre Pedrera. Insomma, un clima di festa diffuso su tutta la costa nel solco della tradizionale ospitalità che da sempre contraddistingue la città feliniana nel mondo. Anche a Ferragosto abbiamo registrato il tutto esaurito, afferma il presidente dei Rimini Reservation, Ivan Gambaccini, confermando quindi i risultati dello scorso anno. Negli ultimi dieci giorni c'è stato un crescendo di telefonate e richieste di informazioni e già da venerdì erano esaurite le camere a disposizione nel sistema. E sarà così almeno fino alla fine della settimana, con un tasso di riempimento pari al 99%. Fino a domenica saranno infatti poche le camere libere che si troveranno.